E' situato ora il primo piano di via dell'Azzaretto Vecchio nei locali della Biblioteca di Studi Umanistici l'Archivio degli Iscrittori e della Cultura Regionale, entrato a far parte del patrimonio dell'Università degli Studi nel 2012 a seguito della donazione effettuata dall'Associazione Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale. L'associazione, fondata su impulso del professore Elio Guagnini, ha accolto lasciti e donazioni provenienti da alcuni dei protagonisti della storia letteraria e culturale del Novecento. Il ricco patrimonio costituisce un prezioso punto di riferimento per studiosi e appassionati, comprende fondi bibliotecari, fondi documentali, materiale iconografico e un numero considerevole di beni artistici di varia natura. I materiali sono disponibili alla consultazione con un servizio di reference per l'utenza con personale specializzato. L'ufficio Servizi per la Divulgazione Scientifica garantisce l'accessibilità, la catalogazione e la valorizzazione dell'archivio, che è stato dichiarato di interesse culturale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, perciò è soggetto alla tutela della soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia. Le collezioni conservano in parto o in toto le biblioteche personali di Dario De Tuoni, Antonio Fondasavio, Bruno Maier, Claudio H. Martelli, Scipio Slata per Italo Svevo, Giorgio Voghera. Vi si trovano libri antichi, volumi, edizioni pregiate italiane straniere, opuscoli e riviste, pubblicazioni rare. Le biblioteche, conservate nella loro integrità, presentano nei volumi note di possesso e note al testo, vergate dagli scrittori stessi, testimonianze di eccezionale valore per gli studiosi. La sezione iconografica comprende dipinti, stampe, disegni, carte geografiche, diplomi, ritratti, vignette satiriche provenienti per la maggior parte dall'ascito Fondasavio. Tra i disegni conservati, molti realizzati da artisti amici di Svevo, come Arturo Fitche, Vittorio Bolafio, Enrico Fonda, Tullio Silvestri, Carlo Vostri. Sono visibili inoltre i volumi illustrati dell'architetto Pietro Nobile, di cui si conservano anche carte e pistolari e progetti. Successive donazioni di carattere iconografico hanno arricchito l'archivio con le opere degli artisti Bruno Kersicla, Guido Cadorin, Ugo Carà, Renato Daneo, Adolfo Levier. Una sezione delle opere conservate è visibile dal portale del Sistema Museale di Ateneo SMA-TS.